Questi sono? Melanzani Melanzani Questi sono cetrioli Eccolo lì il coniglio Eccolo, vedi? Sei contenta? Eccolo lì, guarda Se lo possiamo mangiare Filmalo se puoi Un coniglietto Qua c'è, ci sono cetrioli interi E qua c'è con il fiore in fondo Ne volete uno? Volete un cetriolo? No, no Guarda questo che c'è il fiore in fondo Che bello Lo vedi magari da qui Ecco qua Il compagno c'è La zucchina la vuoi fare? Il zucchino? Eh, il zucchino Qui c'è la zucchina, guarda Se la vuoi il fiore e il zucchino Guarda che fanno le patate Meraviglia Le patate? Queste sono patate? Sì Oh, queste sono le patate Eh, quando le raccogliamo Quella è birra in cima Meglio che la qui Di cos'è? Eh, ricoste che vanno in casta E' un messo peggio Di questo invece? Questo è un prugno cotto Prugno cotto? Quello che noi fanno Mentre dice quello Quello è un kaki E questo fico L'uva è un'impresa? Sì, l'uva c'è un uva Mentre è più bella Guarda L'uva lì Guarda È più Sagiato Tempiore Vedi? Questa è tutta uva Che se Se viene Mangiamo l'uva Stanno Quest'anno sì Anche da noi C'è pieno Allora se vedete Il film Anche l'anno scorso Era pochissimo Fico Se vuoi filmare L'etamaio C'hai l'etamaio Questo è il tuo L'etamaio Ma che bravo I kakiolini Ci interessano? Sì Andiamo allora Hai un po' di menta Per fare la tisana Stasera? Sì Sì Tanto la menta Si può prendere Anche se è L'orto di un altro No non ti preoccupare Te scimo Eh? Io non posso piantare